Avete perso la seconda puntata del Festival di Sanremo? Il riassunto ve lo faccio io. Presenta sempre Carlo Conti, accompagnato da Maddalina Ghenea e Gabriel Garco. Da segnalare anche la bravissima Virginia Raffaele che questa sera interpreta la principessa Leila. 21.26, la prima esibirsi è Dolce Nera e tutta la sua bocca. Alle 21.36, direttamente da Napoli, Clementino. Alle 21.42 è il momento di Patti Bravo. Alle 21.50 gli alunni della classe più piccola d'Italia e la loro maestra. Alle 22.29 è il momento di Francesca Michelin. 22.56 è il turno dell'ex cantante dei Dear Jack, Alessio Bernabé. Do you rigo? Alle 23.12, piccolo inconveniente con Ellie Golding che non sente la traduzione ma Carlo Conti per fortuna sfodera tutta la sua conoscenza della lingua inglese. In the TV one... Alle 23.30 è il turno di Neffa, di cui sentiamo un piccolo estratto. Alle 23.33 ancora Patti Bravo. Ah no, è Nicole Kidman. Qui immortalata nel toccante incontro con Carlo Conti. Questa era la seconda serata del Festival di Sanremo. Ci vediamo domani. Ciao! 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 Grazie a tutti